Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore. Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sola sua coperta è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio. Ripetiamo. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio nella mia salvezza. Egli concede al suo re grande vittorie. Si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati a mezzo a voi e per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi, infatti, a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero, e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profetti. Parola del Signore. Da quando sono piccolo, insomma, elementare, medie, che mi è rimasta impressa, anche perché cercamo, alcune volte, di attuarla, una frase che mi diceva sempre mia mamma. Non fare agli altri quello che non vorresti gli altri facessero a te. Che a volte lo diciamo ai nipoti, ai ragazzi, un po' anche per fargli capire, insomma, che gli altri comunque sono persone che ricepiscono e bisogna trattarli bene. E richiama un po' quello che è il Vangelo di oggi. E continuiamo la lettura, appunto, del Vangelo di Matteo. E ci sono le varie, diciamo, i vari quesiti che cercano di incastrare Gesù perché volevano farlo morire. Però finché non diceva qualcosa di sbagliato, ovviamente tutto, i farisei, i sadducei, gli erodiani, non sapevano come accusarlo. E questo Vangelo arriva subito dopo, un brano di Vangelo che noi non abbiamo letto, l'abbiamo saltato da una domenica all'altra, che è quella sulla questione del matrimonio. Non so se ricordate se uno muore, di chi sarà marito o moglie. E il Vangelo di oggi, non so, quando l'ho letto, forse Gesù può sembrare tanto arrogante cercare di condensare i dieci comandamenti, le dieci parole che Dio stesso aveva dato a Mosè. sul monte, dieci parole, ognuna con una importanza, ognuna con anche una categoria di vita. non tanto arrogante perché non dice un cosa, ma dice il come. E nei dieci comandamenti vediamo come ci siano tre cose che continuano a tornare e che sono implicate più o meno dappertutto. Io, Dio e gli altri. Che è un po', tra parentesi, quando dovete fare l'esame di coscienza per fare la confessione, prendetevi queste tre sfere. Io, Dio e gli altri. Come mi sono comportato? Verso me stesso, verso Dio e verso gli altri. E allora Gesù riprende questi elementi e inizia a mischiarli. E ci dà questi due grandi comandamenti. E ci chiama a vivere un'unità di vita. Quante volte ce lo dimentichiamo. Io non posso essere Don Marco quando andavo allo stadio, quando ero a scuola o quando ero a casa. Non posso essere diverso, sempre. Siamo chiamati ad unire la nostra vita. A far sì che possiamo essere interamente noi stissi, senza dover mascherare ogni volta o prendere... cioè di essere una persona diversa. Siamo chiamati a questo. E siamo chiamati anche a fidarci di una strada messa davanti a noi. Proprio per questo, nel secondo comandamento che dice oggi Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso, riprendendo un po', facendo memoria di quello che ho vissuto io, nella mia vita, è diciamo che è una strada da percorrere che passo dopo passo inizia a capire. E allora a volte ci viene dato, soprattutto in questa domenica, ci vengono dati queste parole per poter iniziare un cammino, per poter, magari siamo già in cammino, poter rileggere anche quello che stiamo vivendo. E nelle letture ci viene dato una grossa mano. nella prima far memoria troviamo l'io, gli altri, Dio, la memoria di una storia di vita, una storia di salvezza e che non si chiude nella storia. È stato un bel evento, siamo usciti, siamo stati fortunati. No, è una storia che rimane, l'unità. Ed è una storia che siamo chiamati, che sono stati chiamati, e anche noi siamo chiamati, a vivere continuamente, anche a un tot di anni di, insomma, di passaggio, di distanza. Essere uniti, far memoria. Oppure nella seconda lettura sentiamo San Paolo che credo raggiunga l'apice proprio su quel come che poi ha portato a un cosa, al cosa fare. Però ma come l'hai fatto? E ci dice la vostra fede, parlando ai tessalonicesi, la vostra fede si è diffusa dappertutto tanto che non abbiamo avuto bisogno di parlarne, non abbiamo dovuto dire a qualcuno avete visto quelli là che hanno fatto questa cosa ma è perché questa cosa qua? No, non c'è stato bisogno di questo. Perché il mio essere cristiano, il mio, diciamo, rapportarmi con gli altri e il mio rapporto con Dio sono uniti, fusi insieme. ognuno dice dell'altro elemento e allora arriviamo se il secondo comandamento di oggi era abbastanza concreto ama gli altri come te stesso il primo è quello su cui vogliamo un attimo soffermarci ma neanche più di tanto anche perché parentesi ho fatto un po' di riunioni o anche facendo la scuola dei preti giovani o con la mascherina uno si assopisce abbastanza facilmente. Come amare Dio? Come amare Dio? Perché? Allora, la seconda è molto semplice appunto ma la prima amerai il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Uno dice va bene però insomma non è che da un momento all'altro domani mi sveglio e dico ok oggi amo Dio con tutto me stesso e uno se la prende così dice a questo punto mi faccio suora o prete. Cosa significa veramente amare? Cosa significa questo comandamento che il Signore ci dà? Amare è presuntuoso può essere presuntuoso che colui che ci ama cioè noi dobbiamo amarlo colui che ci ama uno dice ma c'è un po' un cortocircuito ci viene continuato continuamente ci viene detto che il Signore ci ama per quello che siamo però devo amarlo anch'io ma è necessario amare questo verbo che spesso torna e ritorna è diciamo al centro di alcune discussioni magari di famiglia alcune discussioni insomma tra morosetti fidanzati amare tu mi ami io ti amo però se uno non ama più l'altro siamo chiamati ad amare Dio con tutto noi stessi è necessario e a volte crediamo che amare che amare abbiamo un'idea sbagliata forse di cosa significa amare se noi prendiamo questo verbo ci sembra di dire se io amo una persona devo farla anche sentire il mio amore se io amo una persona vuol dire che mi dono a lei totalmente ed è proprio per questa idea distorta che a volte crediamo che amare sia fare cose o essere una determinata persona sarò il marito perfetto o la moglie perfetta devo portarle fiori oppure devo assolutamente dirle una parola e devo far qualcosa ma nella mia riflessione anche meditando questo Vangelo mi dicevo ma cosa significa veramente amare e mi ha aiutato tanto mi ha aiutato tanto guardando il crucifisso che abbiamo tutti davanti lui che ci ama come può una persona amare morendo come può Dio amarci e a volte sembra strano ma secondo me amare significa proprio lasciare spazio all'altro non perché dobbiamo diciamo far fuori quello che siamo le nostre caratteristiche ma è proprio far entrare la vita dell'altro nella mia vita amare Dio lasciare che Dio entri nella mia vita e con questo diciamo lasciarci un po' contagiare da Dio ed è veramente strano come Dio nell'amarci abbia appunto si è appreso su di sé adesso prendo un po' questa parola anche se il contesto insomma e il tempo non è molto favorevole ma si è lasciato contagiare cioè si è lasciato attecchire dalla nostra vita umana il figlio di Dio che si è fatto uomo ma soprattutto ha assunto in sé la morte ha preso su di sé la morte amare questa grande parola e allora capiamo bene che amare Dio è lasciargli spazio amare Dio significa farlo entrare nella nostra vita con quello che siamo amare Dio con tutto noi stessi come come un grande ringraziamento come un grande una grande accoglienza amare Dio si può fare amare Dio non è una cosa che solo i perfetti possono farlo amare Dio significa appunto lasciare un po' quel peccato originale che tante volte ritorna ritorna alla nostra mente nel nostro cuore che è quello del possesso e nel momento in cui ci liberiamo dal possedere relazioni vite idee progetti di vita e lasciamo entrare Lui Lui fa grandi cose ecco allora che amare significa anche lasciarsi amare amare significa far spazio a questo Dio che sa ben più di noi di un Dio che non guarda le nostre maschere che non guarda se a volte siamo una persona o l'altra persona ma ci accoglie per quello che siamo e così allora anche noi ancora una volta in questa messa quando faremo comunione o quando insomma abbiamo ascoltato il Vangelo accogliamo questo Dio che ci ama